segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te barisoni ma qualcuno ha intenzione questa cosa che dice gambi qualcuno ha intenzione di mettere delle sanzioni dall'algeria non credo proprio in questa fase abbiamo appena fatto un accordo cioè allora se vogliamo ragionare di fanta politica e fanta economia tutto è pensabile è chiaro che nell'azerbaijan nell'algeria sono due paesi completamente tranquilli cioè non stiamo prendendo il gas dal canada certo però va anche detto una cosa e questo è un dato oggettivo prima dell'invasione russa l'ucraina noi dipendevamo per il 40 per cento del nostro gas anche un po di più siamo arrivati al 43 44 dalla russia quota analogare a quella tedesca ora la dipendenza russa è scesa a livelli visibili e con l'anno prossimo sarà azzerata nel frattempo abbiamo aumentato che cosa il gas a zero il gas algerino e il gas liquefatto che stiamo rigassificando a piombine poi andremo porteremo la gorra tundra a a savona basta questo non tutto è perfettibile ma rispetto alla situazione in cui ci trovavamo e su cui nessuno aveva niente da ridire fino al febbraio del 2022 in cui sostanzialmente la metà del gas per riscaldarci e un terzo dell'elettricità prodotta per accendere le nostre case era di derivazione russa secondo me l'italia è messa molto meglio adesso l'italia e anche l'europa e poco fa l'agenzia ha comunicato il dato sugli stoccaggi siamo al 97 per cento io vorrei ricordare che quando venimo sorpresi dall'invasione russa gli stoccaggi siccome non si riteneva che ci dovesse essere erano sotto al 70 per cento le riserve che abbiamo messo l'anno prima